come abbiamo generato oltre 12.000 euro grazie a questa semplice app shopify che devi assolutamente installare sul tuo negozio shopify a partire da subito ti do ufficialmente il benvenuto al video di presentazione di kartx ovvero la migliore app in circolazione per quanto riguarda il post purchase upsell adesso andiamo a vedere tutto nei dettagli questa app ci ha permesso di appena installata di generare oltre 12.000 euro in vendite extra per il nostro business shopify e può farlo anche per te se sai ovviamente cosa stai facendo e non fai le cose a caso quindi mi raccomando guardati tutto il video fino alla fine perché ti spiegherò inoltre tante strategie di cross sell upsell che devi assolutamente implementare nel tuo business per guadagnare di più a partire da subito quindi fallo subito ovviamente trovi tutti i link in descrizione sia di shopify sia di kartx sia di open source business punto it quindi mi raccomando non perdere più altro tempo ma partiamo subito con il nostro video tutorial ovviamente per chi non lo sapesse cross sell upsell post purchase sono delle strategie per appunto incrementare l'everage order value di ogni vostro cliente quindi quando una persona compra da voi dal vostro negozio shopify ovviamente voi dovete cercare di fargli spendere il più possibile ok così da incrementare il vostro guadagno netto quindi cosa fa quest'app nel pratico one click upsell post purchase significa semplicemente che dopo che una persona ha comprato gli fate un'altra offerta di cross sell upsell o downsell nello specifico il cross sell è quando praticamente gli vendi un prodotto complementare a quello che il potenziale cliente o il cliente ha già comprato anzi perché in questo caso è post purchase quindi ha già comprato è già nostro cliente ma vogliamo che spenda molto di più quindi cosa facciamo semplicemente gli offriamo qualcos'altro che è complementare a quello che ha già comprato per esempio se ha comprato un paio di scarpe noi proponiamo dei calzini ok o magari una un kit di pulizia per appunto quanto riguarda le scarpe avete capito quindi un prodotto complementare che ovviamente quindi se per esempio state vendendo scarpe potete fargli l'offerta ad un prezzo scontato di calzini oppure un kit per pulire le scarpe avete capito un prodotto complementare mentre con la strategia di upsell si praticamente propone un uno stesso prodotto quindi lo stesso magari paio di scarpe ma in quantità maggiore quindi se quella persona ha comprato un paio di scarpe gli dite guarda comprati un altro paio al 50 per cento di sconto questa è la strategia di upsell altrimenti la strategia di downsell è quando magari non accetta nessuna offerta e proponete un'altra offerta ancora più conveniente quindi magari al 75 per cento di sconto ovviamente sto esagerando ma dovete sempre calcolare immagini in ogni caso dovete vedere se vi conviene quindi questo per farvi capire la strategia di downsell mi raccomando non fate le cose a caso perché è tutta una questione di numeri quindi fate le cose con la testa non a caso e le strategie vanno assolutamente implementate anche perché sono gratis quindi cosa significa gratis che intanto l'app vabbè lo vediamo più avanti è gratis al piano gratis però in generale le strategie post purchase ovvero dopo che hanno comprato sono gratis dal punto di vista della appunto fidelizzazione del cliente in quanto lui già si fida di te quindi non gli state proponendo troppe cose prima dell'acquisto cosa che ovviamente potete fare con questa app è che dovete fare lo stesso in quanto ovviamente quando loro magari aggiungono al carrello un prodotto voi con questa app oltre a farvi vedere dopo post purchase potete anche farvi vedere prima quando aggiungono a carrello appunto un'offerta stesso discorso downsell cross sell upsell questo è quello che vi farà incrementare l'everage order value appunto come dice qui del vostro ordine del vostro cliente che ancora non ha comprato in questo caso quindi voi potete veramente strutturare tante strategie all'interno del vostro business shopify e dovete farlo perché ovviamente dovete guadagnare sempre di più e questo diciamo vi consiglio di farlo in tutti e tre i casi intanto dovete testare in quanto il test è fondamentale per qualsiasi tipologia di business e soprattutto per l'e commerce quindi testate ogni singola variabile ogni singolo prodotto mi raccomando poi abbiamo la thank you page ovvero la pagina di ringraziamento dopo che hanno comprato ed è potentissima perché loro hanno già comprato la differenza qual è dal one click upsell è che semplicemente col one click upsell voi vi fate vedere una pagina che è diversa dalla thank you page che è la pagina finale ovviamente dopo loro che hanno comprato diciamo la pagina di conferma dell'ordine dove voi potete e dovete utilizzare tutte queste strategie che abbiamo definito in precedenza anche con pop up countdown la differenza principale tra queste due strategie che vi consiglio di utilizzare tutte e tre anzi non solo queste due ma queste due per quanto riguarda il post purchase è che principalmente one click upsell appunto è una pagina con la quale adesso ve lo mostrerò gli chiedete semplicemente sì o no quindi è molto molto più semplice è veramente un funnel a tutti gli effetti post purchase che gli fa decidere ovviamente con offerta importante se acquistare oppure no quel prodotto in più ed è molto molto potente molto di più della thank you page che magari è più tranquilla come situazione in quanto hanno più tempo hanno già comprato si trovano sulla pagina di verifica dell'ordine quindi è un po' diverso come meccanismo adesso ve lo mostrerò comunque in ogni caso voi provate tutti e tre questa infatti è la one click upsell come vi ho fatto vedere in precedenza o anzi vi farò vedere fra poco vi ho specificato in precedenza questa è la thank you page vedete comunque è un po' diversa soprattutto per quanto riguarda shopify e questo è il pop up pre purchase quindi prima che hanno comprato quando lo raggiungono al carrello semplicemente potete proporre altri prodotti quindi è molto molto potente ripeto questa ovviamente la dashboard che vedrete all'interno di cart x fondamentale per analizzare esattamente come sta funzionando cosa sta funzionando e perché sta funzionando quindi tutte le strategie voi le potrete comunque monitorare all'interno del vostro account cart x che ricordo ragazzi è gratis il piano gratis in particolare è valido fino a 50 ordini generati dal vostro negozio shopify quindi potete tranquillamente provare riprovare differenti strategie per quanto riguarda il vostro funnel di vendita quindi di upsell downsell e cross sell quindi mi raccomando non fate le cose a caso perché costa veramente poco è un app che dovete assolutamente implementare a partire da subito sul vostro negozio shopify 10 dollari 15 dollari 30 dollari al mese massimo è veramente pochissimo meno di un euro al giorno per tutto quello che vi dà calcolate che sicuramente già con pochi ordini anzi già dal primo ordine vi sarete già ripagati il piano massimo che sono 30 dollari al mese quindi è veramente un app che potete e dovete utilizzare subito va bene quindi qui abbiamo le recensioni ovviamente l'app è nuova a poche recensioni ma è assolutamente da installare adesso gratuitamente trovate tutti i link in descrizione mi raccomando installatela subito andiamo a vedere intanto nel negozio di kartx che mi hanno dato i ragazzi di kartx per ovviamente farvi vedere come funziona l'app questo è uno store di prova vi faccio vedere un po come va come funziona l'app in particolare avrete il vostro negozio shopify tranquillamente e ovviamente alla vostra app ok questo è l'interno della vostra app questo ovviamente un negozio di prova quindi sono tutti i dati un po caso ma vi faccio vedere essenzialmente come funziona avete qua la vostra dashboard con tutti i dati come vi ho detto in precedenza vi dice esattamente post purchase quanto avete guadagnato pre purchase quanto avete guadagnato thank you page quanto avete guadagnato grazie ovviamente a questa app quindi non solo in generale ma l'app quanto vi ha portato di guadagno quindi voi saprete esattamente se vi conviene ovviamente vi converrà utilizzare quest'app e quale strategia sarà più efficace per il vostro business e commerce specifico quindi mi raccomando avete tutti i dati ve lo ripeto per la centesima volta non fate le cose a caso perché c'è veramente tanto da fare da sfruttare ok questa è proprio una delle strategie più potente per quanto riguarda l'e commerce in verità sono tre downsell crosssell upsell ma in particolare quella che vi suggerisco di assolutamente implementare sin da subito è quella del one click upsell ok adesso vi faccio vedere come funziona creiamo il nostro funnel qui possiamo tranquillamente selezionare il prodotto ovvero che si attiverà quando loro compreranno o aggiungeranno al cart quindi al carrello uno specifico prodotto o un prodotto in una specifica o collezione oppure tutti i prodotti quindi una volta selezionato il nostro prodotto i vari prodotti la collezione salviamo andiamo avanti e creeremo il nostro primo upsell o crosssell la nostra prima offerta quando in questo caso il pop up quando loro aggiungono al carrello quindi subito vi comprare questa offerta prima che hanno comprato e qui possiamo selezionare offerta 1 2 3 selezioniamo per esempio 3 prodotti tra i prodotti quello che vogliamo upsellare offerta 2 eccola qui la terza la hoodie quindi salviamo e configuriamo come vogliamo visualizzare questa offerta ok possiamo ovviamente inserire il countdown il colore possiamo cambiare il colore in nero va bene test color che qui nero molto più pulito lo facciamo possiamo cambiare il font possiamo quindi editare il nostro pop up esattamente come vogliamo qui magari facciamo bianco perfetto scriviamo l'headline come vogliamo posizionare il titolo eccetera qui ovviamente abbiamo le opzioni anche del prodotto e le stars quindi le stelline come di che colore vogliamo visualizzarle i pulsanti come vogliamo personalizzarli anche qui vediamo come esce da mobile perfetto desktop prende praticamente tutto lo schermo e se implementare un countdown oppure no dipende da quello che vendete dalla tipologia del vostro brand come volete comunque presentare il vostro brand è molto potente il countdown soprattutto quando ci sono offerte veramente eccezionali all'interno del vostro funnel di vendita come può essere halloween black friday natale se mettete un countdown è veramente top fa veramente la differenza perché la gente ha veramente un urgency quindi in urgenza di comprare perché la appunto il countdown è vero quindi assolutamente implementate queste strategie nel vostro funnel di vendita nel vostro business poi andiamo avanti faccio vedere one click upsell anche qui cosa succede gli facciamo un'offerta di un prodotto se non accettano un altro prodotto o anche lo stesso ad un altro prezzo ok anzi in questo caso selezioniamo questo qui secondo downsell e terzo one click upsell adesso ve lo spiego faccio vedere brevemente come esce praticamente prima gli fa vedere la offerta numero uno ok se non accetta allora vede il downsell numero uno se in ogni caso va avanti vedete l'offerta numero due downsell numero due offerta numero tre downsell numero tre ora questa è veramente una strategia da drop shippers nel senso che voi cercate di spremere letteralmente il più possibile il cliente quindi non vi consiglio se avete un brand vero di fare troppi downsell upsell ma sicuramente se voi provate a fare un'offerta troppo consistente diciamo così potrebbero anche nervosirsi magari chiedere un refund rimborso eccetera quindi giocate bene le vostre carte è come se veramente aveste la carta vincente ma dovete saperla giocare con i tempi giusti quindi mi raccomando non fate le cose a caso ok anche qui potete ovviamente modificare il one click upsell vedete come esce sempre schermo intero perfetto la differenza è ovviamente che loro compreranno subito ok quindi senza inserire di nuovo la carta o comunque il metodo di pagamento loro già compreranno quindi si ritroveranno con un click solo a comprare quel prodotto in downsell in cross sell upsell è veramente veramente eccezionale questo ragazzi perché praticamente rimuove completamente l'attrito di reinserire tutti i metodi di pagamento quindi carte credito paypal o qualsiasi altro metodo semplicemente con un click loro compreranno potranno anche declinare offerta anche in questo caso diciamo inserirete il bottone per declinare molto più piccolo rispetto al bottone principale perché questa è una strategia ovviamente di one click upsell fare in modo che il pulsante per acquistare sia molto più grande rispetto al pulsante per declinare questo è un piccolo trucchetto che vi aiuterà a convertire tantissimo quindi mi raccomando fatelo implementatelo potete modificare ovviamente come volete come volete con sconti free shipping quindi ispezione gratuita veramente potete offrire tantissime cose all'interno del vostro funnel di vendita in one click upsell e vi ricordo la vera svolta è proprio questa quanto è potente questo strumento perché le persone si ritroveranno in questa pagina con le offerte immagini il testo scritto da voi l'offerta fatta da voi con geniale ovviamente a quello che state vendendo un bel pulsante semplice per comprare subito one shot il vostro prodotto e il pulsantino piccolo per declinare quindi mi raccomando non fate le cose a caso per la millesima volta ci sono tante cose che potete fare che potete strutturare all'interno del vostro negozio shopify in dropshipping questa è particolarmente forte questa strategia in dropshipping ma anche ovviamente se avete un brand e volete vendere più prodotti all'interno del vostro appunto negozio shopify anche qui infine la thank you page aggiungiamo i prodotti che si attiveranno alla fine dopo che avranno comprato ricordo uno dei prodotti che abbiamo selezionato all'inizio questo ovviamente va salvato e anche qui in questo caso le offerte arriveranno alla fine quindi la thank you page dopo che hanno visto il pop up dopo che hanno visto il one click upsell alla fine la pagina di ringraziamento potranno vedere l'offerta un'altra offerta in questo caso molto più tranquilla rispetto a one click upsell perché anche in quel caso hanno già comprato ragazzi anche in one click upsell hanno già comprato il vostro primo prodotto ma in quel caso si ritroveranno in una pagina diciamo a due vie quindi compri o non compri è lì veramente il potere del one click upsell qui in ogni caso hanno avuto il repilogo stanno già tranquilli con la loro thank you page e provate ad upsellargli qualcos'altro ma ovviamente l'obiettivo principale in questo caso vi consiglio di sfruttare veramente il one click upsell che è quello che vi dà veramente quel qualcosa in più in quanto già loro si sono fidati di voi già hanno inserito il loro metodo di pagamento carta di credito paypal semplicemente con un click arriveranno a comprare molto di più rispetto a quello che avrebbero fatto senza upsell quindi mi raccomando ragazzi sfruttate questa app cartix al 100% fate i vostri test per vedere cosa converte di più cosa vi fa vendere di più cosa di meno cosa vi fa aggiungere al carrello cosa gli fa aggiungere al carrello magari dei prodotti che sono similari magari non ve lo aspettavate però vedete che il pubblico reagisce in maniera diversa rispetto a quello che pensavate voi quindi questo che fa la differenza il testare differenti strategie e vedere come reagisce il pubblico il cliente cosa va a comprare insieme a quello che avete proposto voi mi raccomando ragazzi trovate tutti i link in descrizione vi ho fatto vedere come funziona come può incrementare le vostre vendite a partire da subito all'interno del vostro business perché alla fine dei conti è sempre un business che dovete sfruttare al 100% per guadagnare sempre di più e noi ovviamente vi possiamo aiutare in tutto questo perché lo facciamo da anni, lo abbiamo fatto più e più volte nel corso di questi anni con clienti e studenti di tutti i tipi, con tutti i brand, in tutte le nicchie veramente abbiamo un'esperienza incredibile e tantissime recensioni trovi tutto qui sotto in descrizione il link di CartX, il link di Shopify, il link di Open Source Business dove puoi prenotare la tua consulenza strategica personalizzata all'interno della quale vedremo come possiamo aiutarti a te, ad il tuo business per guadagnare sempre di più e finalmente renderti felice di quello che stai facendo io sono Stefano Montana assicurati di seguirmi adesso su qualsiasi social media a partire da questo iscriviti adesso e non perdere più altro tempo e soldi a partire da questo